Salve a tutti ragazzi bentornati su Break2Player e eccoci qui con Civilization Beyond Earth e oggi continuiamo dal turno 225 con la nostra alleanza di stati sudamericani allora ragazzi prima di iniziare volevo salutare David Bonfiglioli che mi ha contattato su Facebook quindi ciao David e adesso possiamo continuare tranquillamente con la nostra avventura in questo mondo direi di rifare un pochino il punto alla situazione perché qualche giorno che non registro effettivamente gli episodi che avete visto fino a ieri l'altro erano effettivamente abbastanza vecchiotti dunque andiamo a vedere il nostro status diplomatico con il mondo siamo amichevoli come vedete appunto l'avevamo visto sì con i tre più forti, i tre più forti di noi e siamo stili solo con Deming Sochua come vedete Vlad in Kozlov abbiamo un punto a nostro sfavore però ovviamente abbiamo insomma imposto un pochino il nostro carattere perché ci ha fondato una città accanto infatti come vedete avevamo già schierato le nostre forze per conquistarla però poi abbiamo deciso insomma di lasciarlo fare vedremo poi in un futuro questa città cosa potrebbe essere potrebbe anche essere che ce la scambiamo magari in un accordo commerciale sicuramente non cederemo noi qualcosa perché abbiamo Santo Adriao che è praticamente attaccato alla nostra capitale qui accanto ok ragazzi allora 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 la nostra guerra con Tiangong è finita abbiamo ancora questa sentinella qua dentro perché è rimasta incastrata nel territorio della cooperativa Panasiatia per adesso direi di fare il turno successivo e vediamo un pochino al turno 226 ok allora le produzioni che abbiamo in corso abbiamo in corso la produzione di un network no un laboratorio un network mi ricordavo il network e un cito vivaio il cito vivaio da queste parti sarà molto utile perché il cito vivaio ci darà la possibilità scegli la produzione al marino dicevo il cito vivaio ci darà la possibilità di ottenere più uno cibo per ogni casella di deserto e questo è circondato dal deserto quindi insomma molto buono ci viene consigliato di fare un lavoratore potrebbe essere buono effettivamente perché abbiamo anche questa città da studiare totalmente però con un centro di cillaggio andremo a perdere uno di guadagno per turno guadagneremo due di produzione e più uno da rotte commerciali interne come mai il cito vivaioio mi dà più uno da paludri adesso? prima io me lo ricordo quando andrò a costruire terra dal deserto forse perché è stronzo forse proprio per questo motivo scusate andiamo a vedere quelli che abbiamo già costruito edifici mostra ok cito vivaio da palude forse ragazzi hanno fatto un aggiornamento nel tempo che non ho giocato e hanno cambiato questa cosa perché effettivamente se ci pensate è difficile trovare tanti territori paludosi attaccati dovrebbe essere tipo questa la palude esatto è difficile trovarne tanti attaccati mentre il deserto effettivamente ci dava un bonus enorme a questa città quindi purtroppo abbiamo sprecato un edificio vabbè dunque vediamo quindi di scegliere qualcosa di utile tipo un giardino di genno questo è un sacco di cose vabbè facciamo il lavoratore per adesso che ci conviene per migliorare la nostra produzione in generale allora 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 abbiamo tre risorse di pietra fluttuante le abbiamo prese qui possiamo anche prendere già queste come vedete qui ci siamo presi questa casella che contiene del rame abbiamo già passato il turno tanto ok qui si espansa la citadella stiamo piano piano allargando i nostri confini qui abbiamo costruito questa andiamo a ripulire il miasma da questa casella qua e poi vedremo di migliorare il tutto perché vogliamo insomma tirare su molto il cibo ragazzi perché più cibo vuol dire più cittadini più cittadini vuol dire meno felicità però anche più soldi che ci entrano più produzione più un sacco di roba quindi dovremo cercare appunto di avere delle città belle popolose allora abbiamo scoperto la stazione chiesa della luce dell'alba uno cibo e tre culture a qualsiasi città che stabilisce una rotta commerciale allora ragazzi qui stiamo andando abbastanza bene come vedete per quanto riguarda le virtù io direi che la prossima potrebbe essere buona questa no non ci dà niente di eccezionale però per esempio ci può dare questa qui più 50% quantità dalle fonti strategiche che fra poco inizieremo a consumarle questa qui invece per adesso non la stiamo sfruttando quindi niente usciamo da qui un'unità attende degli ordini questa qua è venuta qui a ripulire il miasma facciamo il turno successivo progetto attivato progetto di servizio nazionale è stato attivato finalmente ok tra un turno le nostre due spie raggiungeranno le rispettive posizioni eduardo tiangong perché vogliamo appunto conoscere com'è la situazione qui in città e catalina freeland perché era la missione se non sbaglio no queste sono le virtù infatti non dovevo aprire queste ma dovevo aprire queste estrazione della gente vedete ruba scienza dobbiamo fare a freeland insomma non sarà neanche immediata un edificio laboratorio di bionica dobbiamo costruire vedremo di farlo sicuramente a citadella ancora 7 turni mi ricordo ragazzi che il diciamo il piano ormai penso che da questo punto in poi possiamo anche fare tutti episodi da 25 turni oh siamo arrivati ad avere due miglioramenti per quale motivo abbiamo preso agenti segreti ah no grazie non so perché abbiamo degli aggiornamenti disponibili ragazzi perché mi sembra che ero già a 6 vabbè siamo a uno di infelicità yeah sì vabbè di salute via ah no perché probabilmente abbiamo sbloccato questa nave come? non lo so vabbè l'incrociatore può diventare un cruiser quindi andiamo a scegliere più 8 forze a distanza più 1 punti movimento gli potremmo dare non ce lo dice da qui questa cosa è un pochino buggata più 20 contro le unità terrestri o più 20 contro le unità navali dunque ragazzi allora questo mondo qua strategicamente parlando potrebbe convenire fare più 20 contro le unità terrestri perché il cioè si tratta comunque di un singolo continente quindi questo voltile è sempre preferibile alla guerra terrestre rispetto a quella navale perché comunque le unità guariscono e tutto quindi è molto più utile fare questa cosa usare le navi solo come appoggio per buttare giù più velocemente le unità terrestri però stabilendo un discorso di diciamo supremazia navale supremazia marittima potremo anche bombardare più facilmente le città dal mare ed evitare appunto di subire danni quindi sono buoni tutti e due si prendono più 20 rispettivamente io direi di focalizzarci sull'egemonia navale quindi più 20 contro le unità navali il rover lancia missili che ancora non abbiamo costruito diventerà un artiglieria si prenderà più 2 di forza in corpo a corpo andando a 5 più 8 distanza andando a 20 più 10 quando attacca le città più 30 quando attacca le città o più 20 contro le unità terrestri ragazzi allora impariamo dal passato ci mancano in questo gioco mancano effettivamente le unità d'assedio quindi cerchiamo di potenziare il rover lancia missili per renderlo una vera unità d'assedio scegliamo la produzione a santo adriano perimetro difensivo ci viene consigliato ma 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 potrebbe essere buono fare effettivamente un vascello commerciale potrebbe essere buono in questa città abbiamo delle rotte abbiamo delle rotte voglio commerciare il franco iberico dunque mi si faceva vedere le rotte le rotte le rotte probabilmente bisogna fare tipo panoramica commercio ok abbiamo in partenza da citadella da manuel ok rotte disponibili wow in partenza da santo adriau eccole qui quelle marittime dunque possiamo andare a carabros più 6 più 4 più 4 più 2 possiamo andare a coneco possiamo andare a seric possiamo andare a sidadella però terrestre questa ok anche seric è terrestre dovremmo controllare solo quelle con questo simbolo qui santo adriano leque 6 8 4 4 buono 6 8 4 4 ci prenderemo 8 di scienza oppure andiamo come vedete addirittura alle stazioni possiamo arrivare anche a questa chiesa del guardate bello questa la libella la libella ma la libella non era stata distrutta ah no è che c'era il vermozzo qui che rompeva le palle vabbè però noi abbiamo un mitragliere qui che ora possiamo anche pulire la strada questo sta commerciando con Echima Station e questo sta commerciando con noi ok noi vedremo si vabbè intanto facciamoci un bel vascello commerciale che ci fa comodo e poi abbiamo due spie quella Freeland dobbiamo sicuramente stabilire una rete perchè dovremo avere la cosa a livello 1 per riuscire appunto a rubare scienza a Freeland mentre quest'altra ovviamente possiamo addirittura guardate rubare una tecnologia rubare scienza direi di rubare una tecnologia fra le due ok quindi operazioni segrete fine abbiamo già impiegato i nostri agenti turno successivo turno 230 in arrivo penso non lo so penso di sì aspettiamo che venga completato il turno degli altri protettorato di cavitia ragazzi ha un'ideologia rispetto alla nostra diversa rispetto alla nostra però sembra che ci abbia preso sulito nel tutto giusto ok allora possiamo fare possiamo prendere materiali da pozzi di xenomassa insomma creare questi miglioramenti allora 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 scegliamo la nuova ricerca intanto e guardiamo un pochino dunque siamo andati da questa parte perchè perchè questo ci da la possibilità di fare il condensatore miasmatico l'aggiungio miasma affinità armonia xenoshame non era per questo ovvero probabilmente sì perchè mi ricordo che c'erano altre ricerche che richiedevano praticamente miglioravano il fatto del puzzo di xenomassa però non mi sembra di vederle vabbè possiamo fare il biosfere ragazzi che potrebbe essere buono ci prenderemo un punto affinità purezza andremo a 7 7 non ci da niente forse avremo dei miglioramenti delle unità e oppure puntare da un'altra parte guardiamo un attimino che alternativa abbiamo genetica aliena più uno culturale eccoli qui questi qui ci interessavano in pratica cioè con genetica aliena avremo più uno cultura da biopozzo e più uno scienza da puzzo e xenomassa però non è così importante per adesso facciamo biosfere siamo già a buon punto quindi 10 turni e risolviamo il problema abbiamo da fare una decisione sulla missione velocità di fuga ha deciso sulla missione questa stazione di lancio è molto più avanzata di quelle costruite sulla terra non è solo efficiente ma può svolgere la sua funzione senza devastare il territorio circostante ora che è stata messa la prova e verificata i nostri ingegneri vorrebbero apportare qualche altro miglioramento potrebbero introdurre un protocollo di lanci doppi che aumenterebbe la dimensione del nostro network orbitale alternativamente potrebbero installare una matrice automatizzata che velocizzerebbe la produzione entrambe le opzioni rappresentano di sicuro un beneficio per le nostre esigenze in orbita quindi lanci doppi otterremo più nella copertura orbitale dalle stazioni di lancio o più 10% alla produzione allora ragazzi la copertura orbitale delle città per come abbiamo deciso di espanderci potrebbe essere utile aumentarle effettivamente come vedete si siamo abbastanza appicciati per adesso però abbiamo già lanciato diciamo una città su in cima in alto a destra e c'è molta distanza tra una città e l'altra quindi aumentarla potrebbe essere buona considerate che noi nella scorsa partita avevamo la copertura sopra ogni se non sbaglio coso di firaxite addirittura ci veniva data in pratica ci veniva considerato come città io direi però di usare questa matrice di produzione automatizzata perché velocizzare la produzione di unità orbitanti è molto utile le unità orbitanti non le vedo una meccanica così necessaria al funzionamento del gioco sono unità accessorie unità come per esempio il collettore solare che mettiamo in orbita ci fanno guadagnare un sacco di soldi per 60 turni e poi dobbiamo ricostruirle quindi nel minor tempo le costruiamo meglio è poi è vero c'è il vaporizzatore il laser orbitanti c'è un sacco di roba dunque livello intrigo sidadella è aumentato attenzione operazione segreta scoperta sidadella ok e missione completata a velocità di fuga va bene facciamo turno successivo 231 e vediamo un po' cose su sidade 5 turni per tutto 5 turni per tutte le nostre produzioni quindi per 5 turni non dovremo toccare la produzione fra 5 turni dovremo toccare tutto come vedete 4 qui 4 4 4 4 4 ok andiamo a fare un recinto direi qui che ci darà più uno scienza oltre appunto alla resilina dunque turno successivo ancora una volta praticamente non dobbiamo fare niente in questo turno i nostri uomini sono tutti impegnati in attività attenzione che questo alieno si avvicina abbastanza a questa zona vediamo di usare il nostro mitragliere dovrebbe correre tipo fino a non so se è lì perchè è un terreno rialzato quindi non penso che riusciamo a colpirlo si come vedete infatti arriviamo a una catella prima accordo di cooperazione con cavite parkour deve essere rinnovato quindi andiamo a farlo immediatamente contattiamo la signorina 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 perchè abbiamo il mitragliere selezionato vero io voglio selezionare un si catella ok perchè non pigioesca no scusate selezioniamo un lavoratore impegnato tipo questo vai ora se io clicco su mandira ah visto interlocutore la tua integrazione è molto gradita dichiara guerra no discussione vogliamo stringere un accordo di cooperazione va bene perfetto arrivederci e vediamo un pochino di fare turno successivo ok ragazzi allora la cosa migliore in questo momento sarebbe fare davvero una bella alleanza con l'equera e o con la federazione slava franco e berri è condannato pubblicamente la polistrale attenzione che qua sotto iniziano ad esserci delle delle tensioni dunque cosa abbiamo di nuovo decisione sulla missione al sicuro dietro le mura ora che la nostra barriera ultrasonica è completa abbiamo trovato una nuova applicazione ah ok questo ce lo ricordiamo allora in pratica la barriera ultrasonica è un edificio che permette cioè che impedisce agli alieni di avvicinarsi a due caselle dalla città al momento le barriere sono statiche e con un raggio di protezione che va oltre quello che avevamo originariamente calcolato quindi il raggio è superiore alle due caselle tuttavia se invertissimo la polarità la circonferenza ultrasonica si contrarrebbe però la barriera potrebbe diventare mobile come uno scudo personale quindi mantenendo il progetto originale o accogliamo nell'aspettato per creare qualcosa di nuovo allora in pratica io penso che la distanza di due comunque venga mantenuta dagli alieni e oltre a questo possiamo aumentare di uno il campo d'azione quindi a tre però non ha molto senso questa cosa secondo me oppure invertire la polarità e proteggere totalmente i convogli dalle unità aliene a questo punto in pratica non dovremo più pensare ai nostri convogli che vanno all'estero se non per le unità nemiche però gli alieni ignoreranno i convogli perché non potranno attaccarli la cooperativa panasiatica ha denunciato la polistralia diritto di passaggio per diritto di passaggio ci va benissimo e ragazzi vi ricordo stiamo attenti a dare troppi a fare troppi favori al al prossimo perché dunque stabilisce rete completata gente non individuato qui a freeland dobbiamo scegliere una nuova operazione catalina deve andare a rubare scienza però non possiamo farlo quindi dobbiamo trasferire energie fra 15 turni avremo completato ragazzi la ricerca della qui cosa vuoi sei incazzata con una miccia lo so lo so scegliamo la produzione a manuela scegliamo la produzione ovunque come mai vi ha avuto un bonus di produzione probabilmente perché abbiamo migliorato qualcosa nel frattempo dunque ci viene consigliato un perimetro difensivo ma ragazzi ma abbiamo uno di malasantà diciamo abbiamo 614 di neri però abbiamo anche un guadagno di 6 per turno abbastanza basso vediamo di costruire per il reattore altorio per aumentare la produzione questo gli possiamo dire di fare una strada oh questa è una strada si ci sta già pensando lui quindi vieni tipo aspetta ecco fermo fermo modalità di itinerario no voglio selezionare tu vieni qui a fare una cosa una miniera di pietra fluttuante allora turno successivo ci viene detto che la cooperativa panasiatica ha condannato la polistralia avvisando il mondo che non c'è da fidarsi per la colonia l'agente segreto promosso quindi catalina è diventata un agente non è più una reclusa e poi abbiamo la missione scompletata di stabilire rete a freeland ragazzi attenzione che qui c'è un bello schieramento di unità commerciali come vedete la cooperativa panasiatica sta spingendo molto sull'acceleratore commerciale però però questo potrebbe aiutarti sono felice di aver completato un deposito ma non era quello che mi interessa abbiamo un vascello commerciale dunque te costruisci una cava di pietra fluttuante te sei un vascello commerciale andiamo a stabilire una rotta guardiamo quelle più proficue per noi chiesa della luce dell'alba non è male più uno cibo più uno produzione più tre cultura però abbiamo carabrost lequeur carabrost e lequeur sono molto buone entrambe forse un pochino meglio carabrost perché ci da dei bonus minori però diamo anche dei bonus minori a loro dunque io direi di prenderci questa questa perché ci da cibo produzione e cultura e ci fanno tutte e tre comodo quindi perché no scegliamo la produzione in tre città ok si da Dela può fare un repulsore miasmatico bella merda se no possiamo fare un altro convoglio commerciale penso che ci convenga dunque scegliamo la produzione a Santo Adriano vediamo di fare un network no una stazione lancio no una barriera ultrasonica no forse il depuratore di acqua più uno cibo e più una produzione delle accelle acquatiche 11 torri saranno un bel po però scegliamo la produzione anche a duradourado e possiamo fare ragazzi quella cosa che ci costa minuturne tipo la clinica ci dà un po di salute ci basta tornare in positivo a noi vi ricordo che la cosa migliore sarebbe mantenersi non sbaglio la salute sopra 10 sopra 10 penso sia e mantenendo la salute sopra 10 avremo dei bonus alla produzione in questo modo siamo la salute e la colonia è meno 1 e abbiamo meno 2% alla crescita e meno 2% alla velocità di crescita avamposti quindi abbiamo dei malus minimi però comunque sono dei malus mentre sopra al 10 da 0 a 10 non avremo niente e sopra al 10 avremo dei discreti bonus turno successivo ancora una volta non possiamo fare niente quindi passiamo il turno guardiamo se riusciamo vabbè a parte abbiamo questo completamento di questa cosa ora vediamo se riusciamo a commerciare con questa io spererei che la signorina qui abbia voglia di attaccare questo ehi che stai fando te ma ci vorrebbe un patto di non aggressione ragazzi come a rom perché davvero lo so che è la seconda volta tipo lo dico però dunque abbiamo bisogno direi di migliorare anche questa città quindi veniamo subito qua a fare un po' di energia geotermica con questo convoglio commerciale possiamo andare a commerciare con dunque la libella la libella assolutamente 10 cultura per turno ragazzi dunque questo è completato con quell'edificio lì noi vogliamo 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 vieni qui si viene a fare un bel pozzo di xenomassa ok abbiamo 3 di petrolio e 3 di pietra fluttuante per adesso 3 turni per le biosfere e qui cosa abbiamo collegamento stabilito con dourado ok vediamo un pochino il nostro lavoratore ah già qui ha completato il suo lavoro veniamo qui a rimuovere il miasma e poi a costruire un bel flutteto questa zona è abbastanza ricca come vedete fra tutto se riusciamo a inglobo c'è un'altra città ragazzi questo tizio si sta prendendo una fetta enorme in territorio dovremmo probabilmente chiudere qua e prenderci questo prima e ce lo freghino però come vedete non siamo nella situazione di andare nuove città purtroppo allora turno 238 turno 238 te ripulisci il miasma te sei un convoglio commerciale che avevi già una rotta precedente ah no questo è quello nuovo ragazzi ok era quell'altro che aveva una rotta precedente quindi andiamo a far crescere Daurado portiamo 3 cibo e 5 produzione a Daurado ok quindi direi di passare il turno no ancora no perché dobbiamo costruire qualcosa di nuovo dunque armor io artiglieria facciamo l'artiglieria ragazzi perché fondamentalmente se non sbaglio ancora non ce l'abbiamo spenderemo un po' di soldi siamo già a meno 3 però anche sta cosa dovremmo vedere di risolverla insomma di unità militare abbiamo una qui una sentinella una sentinella e basta ah no quella lì ma avevamo qualcos'altro allora intanto stiamo sotto attacco da parte dei mostri marini e tutto con i soldani e ce lo buttano giù adesso naturalmente l'attacco di due metà riesce a resisterlo forse ha resistito davvero sembra strano wow ha resistito davvero quindi direi assolutamente cura e poi vieni via ok tu sei venuto qui per fare sicuramente un pozzo geotermico mentre livello intrigo santo adria aumentato livello 2 abbiamo scoperto un'operazione segreta santo adria facciamo turno successivo ancora una volta e vediamo un po' cosa su sied siamo a più 0 siamo tornati in pari diciamo con la produzione ma io avevo anche se non sbaglio forse sono tipo da queste parti ragazzi ce lo vogliono proprio buttare giù questo avevamo un'unica scelta ovvero quella di curarci altrimenti ci bastava un attacco per buttarcelo giù però i mostri marini si sono proprio impuntati a picchiarci abbiamo sviluppato le biosfere ragazzi abbiamo un aggiornamento disponibile andiamo a vedere qual è l'aggiornamento il re in mitragliere diventa guardiano avremo un totale più 6 la forza in corpo a corpo che va a 12 più 12 la forza a distanza cazzo mi va a 26 potremo andare più 50 quando si trova dentro una città quindi molto buona questa fase secondo me oppure più 10 punti movimento non utilizzati dunque i punti movimento questa unità sono 2 se non sbaglio quindi potremo ottenere un massimo di più 20 se lo teniamo fermo però questa è enorme più 50 quando si trova dentro una città quindi io direi che come unità da difesa questa è perfetta non la useremo come unità d'attacco però non ci interessa soprattutto in mitragliere perché è perfetta come unità da difesa appunto da tenere qua e usare come unità di difesa infatti perché c'ho quello perché questo qui faceva tipo la sentinella qua portiamo il guardiano a sidadella ok iniziamo a studiare il nostro esercito in questa maniera portiamo anche quest'unità da questa parte questo mitragliere lo portiamo a santo adriau per adesso posso non abbiamo unità militari mi sembrava di avere anche però dei rover che da qualche parte erano rimasti forse o mi sbaglio erano morti tutti dunque qui vediamo perché abbiamo la spia qui oh yes oh yes la stazione red sun è bellissima qui circondata da alieni cazzosi ne abbiamo anche questo ma sorry tu hai un modulo per le spedizioni il tuo esploratore ha notato qualcosa nelle vicinanze comunque potrebbe essere una rovina grazie comunque andiamo a scegliere una nuova induzione sismi cosa è leva di archimedia cos'è questa cosa marchiata di bianco non capisco ma forse sono unità edifici normali vediamo un attimino si edifici e queste meraviglie si ok era per capire meglio questa schermata perfetto e allora hanno fatto un aggiornamento sicuramente ragazzi dunque con sintesi potremo fare una porta aereo fonderia di leghe e magnetovia oltre al poi avremo un'affinità purezza e olomatrice che è un unità orbitante che ci dà più due cultura nelle caselle se no altrimenti ci potrebbe fare come una balistia batteria di razzi e cosmoscopio lev mobile allora ragazzi mi avevate consigliato questa la tutta battaglia molto utile negli assedi come avete detto non so come mai molto utile negli assedi però magari forse per i miglioramenti perché così non sembra un gran che utile genetica aliena dunque guardiamo i nostri consiglieri cosa ci dicono i nostri consiglieri stanno zitti più che altro no eccolo qui biologia raffineria di biocarburante mo serra sperimentale mo cupola mo robotica invece potrebbe essere interessante perché facciamo il tacjet fabbrica automatica più due produzione più un'energia rotte commerciali internazionali con città o stazioni due slot specialista ingegnere oltre a miniere filaxite ok e manifattura avremo aggiungere quantità di filaxite al tuo totale possiamo anche prendere la filaxite non mi sembra di avere un'energia di intorno 9 turni però non sono tanti ma io ragazzi punterei più alla sintesi cercheremo poi di fare il tacjet dopo quando avremo la porta aerei per adesso lasciamo perdere quindi usciamo torniamo alla mappa e andiamo a fare turno successivo scusate perché hanno attaccato no ragazzi hanno cambiato un sacco di cose mamma mia le unità esploratori hanno forza doppia quando si difendono ma che cazzo me ne faccio di forza doppia quando si difendono porca di quella troia mi hanno cambiato l'affinità allora è un casino perché le esploratori in pratica con il vecchio aggiornamento con quello che è sempre stato fino adesso gli esploratori non potevano essere attaccati dagli alieni e quindi mi ha detto oh tanto circondato alieni ma l'esploratore se ne fregono affanculo giochino di merda perché mi fanno aggiornamenti strani dunque te sei venuto qui in città a fortificarti proprio a stare lì a fortificarti ok mentre non mi garba la cosa la la francoiberia che girella con questo esercito qui davanti sinceramente anche perché sono girate in qua non capisco cosa stia facendo da queste parti sinceramente però vabbè passiamo ancora una volta il turno ragazzi non ce la farò probabilmente a fare 25 turni a parte mancano 9 turni vabbè ora vediamo un pochino perché comunque sta avvenendo già abbastanza lungo questo episodio e ok la francoiberia attacca gli alieni io speravo che attaccassi bene addio rover lanciamissile l'unità più pericolosa da quelle parti ok ci cioè bombardano quella e vediamo un pochino il nostro marino intanto è ancora accastrato lì ragazzi dunque un convoglio commerciale da quest party dunque altri colori possiamo andare a Tiangong o a Carabrost se no possiamo andare a riprendi ok a Coneco andiamo a commerciale quindi a più 1 più 1 più 3 più 3 più 6 più 5 più 4 più 2 why not direi che è la cosa migliore in unità tendo degli ordini questo marino vediamo di farlo avanzare fino ai confini del nostro territorio e di metterlo fortificato qui come questa sentinella qua e questa qui possiamo fare modalità in barco no ok turno successivo siamo nel turno 243 in arrivo quindi se non sbaglio era il 1600 quindi turno cioè anno 2843 un bel po' da adesso allora qui intanto continuano a bombardare questo attrezzo potenze minori alieni avvistati vicino a Santo Alevato attenzione ci sono dei mostri marini vicino a Santo Adriano ma noi possiamo bombardarli della città e spero abbatterli no però rilevarli 56 di vita su 100 che mi pare già buona come cosa ok turno successivo ancora una volta non dobbiamo fare niente in questo turno 243 ripulino foresta fruttato 15 produzione a Santo Adriano dunque ragazzi qui vi ricordo che abbiamo anche questo fronte scoperto che abbiamo un diritto di passaggio a quanto pare con Santo Beria non me lo ricordavo qui ragazzi sarebbe bello chiuderlo con delle unità e poi buttare su alieni avvistati vicino a Santo Adriano sempre il solito sempre il solito ovviamente vediamo di bombardare ok allora abbiamo un'artiglieria ragazzi artiglieria che andiamo a posizionare qua con questa artiglieria potremo vedere poi il prossimo turno magari di buttare giù qualcosa dunque scendiamo a una produzione ah dove siamo artiglieria ok si da della possiamo fare una produzione ma io volevo fare dunque a me non me lo fa fare il coso che qual è la tecnologia dunque si chiamava collettore solare collettore collettore solare tecnologie proprie deutiche fotosistemi fotosistemi ne dobbiamo cercare nella scinza filtra ricerca fotosistemi ok fotosistemi si ci vuole un sacco di tempo ci vuole un sacco di tempo però ci da un bonus enorme però per esempio guardiamo come funziona questa ricerca se funziona bene se vuole trovare il collettore solare ah ok ci dava direttamente collettore solare fotosistemi è qui ok ok interessante interessante andiamo a filtrare queste ricerche ragazzi per vedere dove sono i nostri purezza ok sono abbastanza sparsi niente eccezionale guardiamo un attimino per esempio salute sono tutti di qua questi e noi siamo già belli sportiveggianti di qua più 3 però giuloginati buono questo nuovo prometeo è una meraviglia vabbè queste cose ci pensiamo qui avanti dunque facciamo nessun filtro andiamo a tornare alla mappa e andiamo a scegliere una nuova produzione io non farei una cosa ragazzi sviluppo sociale per adesso lasciamo sidadella produrre punti cultura perché non abbiamo le tecnologie per costruire edifici nuovi e non ci servono nuove unità perché sennò continuiamo a spendere soldi cito vivai ragazzi cito vivai 13 turni non avremo paludi tutti i stronzi mi fanno aggiornamenti proprio per rovinarmi i piani e e e polistraria ok stiamo aspettando non sembra succedere niente di interessante ok questi alieni attaccano o vengono attaccati da mitraglieri vengono attaccati da mitraglieri e vengono quasi uccisi ok qui hanno smesso finalmente di esserci 39 navi un merce non ti preoccupare tranquillo dunque questo robo può fare allestimento per attacco a distanza e fare attacco a distanza fino a lì ok quindi io direi di scambiare la posizione di questo dunque facciamo modalità movimento quindi non ci puoi andare lo so infatti volevo spostare questo e metterti a te qua sopra ok e te e fortificarti qui scelgiamo la produzione a Santo Adriao che è terminato il depuratore d'acqua allora perimetro difensivo ci viene consigliato anche da quello scientifico vabbè più 10 difesa quindi andiamo a 41 punti ferite più 40 vabbè facciamolo se non sbaglio non ha neanche cioè non ci costa neanche niente quel perimetro quel mantenimento Pembela sta bombardando gli alieni di Red Sun a quanto pare sono loro li controllano ehi ma non hai visto la fine che ha fatto quell'altro eccoci appunto cioè nemmeno il tempo di 42 danni ha resistito a prima attacca e sarebbe resistito a tazze no banane lamponi ok li stanno attaccando queste alieni ragazzi sono più arde di quelli della scorsa partita comunque anche perché ci bastava un punto in purezza e ce ne fregava il giusto un sacco di roba veramente un sacco di roba quindi iniziamo da scegliere la produzione anzi iniziamo dalla nuova virtù anzi guardiamo cosa c'è come missione perché se ci dà un bonus particolare una rete ingarbugliata è strano come ora l'umanità viva su un pianeta alieno ma faccia tanti sforzi per recuperare alcune delle conquiste tecnologiche del suo passato avendo finalmente a disposizione le capacità del network ci avviciniamo di un passo a un futuro totalmente sconosciuto la forma che assumerà tale futuro sarà determinata al nostro uso delle tecnologie attuali il network per esempio collega tutti i nostri sistemi permettendoci di disseminare in formato digitale la nostra conoscenza che sia tecnologica o culturale quali queste due soluzioni sia preferibile però non lo sappiamo ok manutenzione gratuita o più uno cultura andiamo a prenderci più uno cultura ragazzi dai network e andiamo a vedere di scegliere la nuova virtù allora la nuova virtù potrebbe essere operazione contigua più tra l'operto orbitale oppure questo che ci dà più una produzione da ogni risorsa strategica e più un'energia da ogni risorsa strategica quindi avremo un po' di produzione e un po' di energia in più scegliamo la produzione a Manuel Manuel può fare un bel centro di riscidio un giardino dei geni un perimetro difensivo laboratorio laboratorio prendiamoci un po' di scienza ragazzi per velocizzare la ricerca dunque ti fa un bello allestimento per attacco a distanza guardiamo se riesce no purtroppo no vabbè dunque teniamolo qui ragazzi in modalità fortifica già allestito per l'attacco a distanza pronto a bombardare chiunque voglia fare il furbo da queste parti io non penso che la Frank Liberia voglia attaccarci però non si sa mai ok questi alieni probabilmente stanno per essere abbattuti esatto teoricamente noi abbiamo comunque dei bonus enormi contro gli alieni più 20 si contro gli alieni dunque ti hai completato questo viene a fare la recinto la recinto in queste parti operazione segreta scoperta citadella ok turno successivo ancora una volta turno 248 in arrivo quindi ci mancano due turni da giocare ragazzi 248 249 vabbè faremo anche il 250 e non mi carbano tutti quegli armor da quelle parti dove stanno andando stanno attaccando Akima Station vabbè non ci importa non ci stiamo commerciando quello che ci interessa è la libella ragazzi alleanza con Elodie terminata allora in diplomazia io volevo vedere registro accordi questi sono gli accordi con noi parliamo con Elodie bonjour mon ami andiamo a vedere accordo fai altri giocatori dichiara guerra ah ne ho un pochino ok sono tutti disponibili diciamo per essere per dichiarare guerra va bene facciamo accordo alleanza senza problemi proponi a fare beviamoci sopra beviamoci sopra un pochino mica quando parli dunque facciamo chiudiamo questo chiudiamo questo chiudiamo questo turno successivo vado in Coslov ha completato equazione trascendentale equazione trascendentale è già a quel scusate non so cosa sia l'equazione trascendentale penso sia tipo per la vittoria per trascendenza equazione questo potrebbe aiutarti trascendentale rivela il segnale penetra l'ostruzione il progetto decodifica il segnale ragazzi è già così avanti che lo strozzo minchia ok dunque dovrata quattro cittadini agente segreto eduardo promosso a gradiagente e tecnologia rubata balistica ma è stato scoperto aia dunque a tiangong quindi scegliamo una nuova possiamo addirittura fare recluta di disertori ragazzi difficoltà vabbè ce l'hanno scoperto ma lasciamo perdere probabilmente ce l'uccideranno però noi proviamo a fare recluta di disertori vogliamo aumentare l'impresa diritto di passaggio per diritto di passaggio va bene però te sei non mi piaci sei troppo avanti con le sue cose di vittoria allora ragazzi siamo alleati dirlo di però io non mi fido ok qui stanno attaccando allora direi che è giunto il momento di tirare su questa salute vabbè stiamo costruendo già diverse roba di questo qui dovrebbe aumentare un pochino la salute no il solcito vivaio questo forzamente un pochino la salute il laboratorio c'era qualcosa che stavamo facendo che aumentava la salute vabbè non importa ragazzi siamo nel turno 250 quindi interrompiamo quell'episodio non abbiamo altro da fare come vedete dovremmo cercare di tirare avanti questa nostra produzione come vedete in questo momento anche Cittadella è abbastanza piantata possiamo andare a cambiare la produzione magari adesso vediamo se c'è possiamo fare la batteria di razi in 6 turni mantenimento 1 difesa cittadina più 18 punti ferita più 3 raggi dell'attacco intervitante va bene buono buono costruiamola per adesso e non possiamo fare altro di edifici dobbiamo tirare avanti la nostra ricerca scientifica quindi punteremo più che altra a tirare avanti questa so che nella maggior parte delle partite scelgo la ricerca scientifica ma scienza uguale progresso progresso uguale prosperità quindi qualsiasi strada che scegliamo la ricerca scientifica è la base ragazzi come sempre se il video vi è piaciuto mettete un mi piace lasciatemi un commento ed iscrivete al break to play un saluto a tutti da Nicolas ci vediamo nel prossimo video